Quando una grande azienda importante come Opencom mi ha chiesto di studiare per loro alcune porte, ho pensato come un artista deve pensare queste porte, cioè creare qualcosa che sia bello, qualcosa che porti interesse e che soprattutto sia collegato a certamente la tecnologia, ma collegato al sentirsi bene quando si entra in un ambiente con queste porte, che io più che porte chiamerei arredi, arredi d'arte. La valutazione che ho fatto è cercare qualcosa di bello, che piace e che ci faccia stare bene. L'altro discorso su cui mi sono soffermato un attimo, già che la bellezza è una cosa razionale, che fa parte dell'essere umano, era quella del sogno. Quando noi dormiamo diventiamo dei cacciatori di sogni, i cacciatori di sogni che sono le cose che maggiormente noi cerchiamo di trovare nella nostra vita, tant'è vero che sogniamo anche a occhi aperti. E cosa sogniamo noi? Sogniamo il bello, sogniamo delle cose molto belle. Queste valutazioni riguardano tutto l'iter della nostra vita, quindi riguardano tanto i bambini quanto gli adulti. Ecco perché io ho studiato due porte. Una porta dedicata all'infanzia, ai bambini, e una porta dedicata invece a chi vuole veramente creare e portare un grande arredo d'arte nella propria vita familiare. Bloh è una porta dedicata ai bambini, dedicata ai loro sogni, è dedicata ai bambini sognatori perché permette loro di vivere nel loro ambiente non soltanto divertendosi attraverso questo Bloh, ma perché possono guardare il mondo. Possono guardare il mondo dalla loro stanza, dalla loro astronave, dalla loro casa sull'albero, dalla loro capsula spaziale. Questi bambini possono creare e quindi avere dentro di loro un'immaginazione che li fa sognare e che li fa diventare i personaggi che loro vorrebbero diventare anche da grandi. Quindi non è soltanto, e ci tengo a dirlo, soltanto uno sfizio l'aver creato un oblò in questa porta, è invece l'aver creato alla condizione perché un bambino possa guardare la propria avventura verso il mondo esterno. E questa è una cosa molto importante che ritengo sia essenziale all'educazione e all'educazione proprio del bambino. All'interno di questa porta c'è una lavagna dove il bambino può prendere appunti, può fare progetti, può divertirsi a costruire anche lui un altro mondo, un altro mondo che fa parte della sua vita, dove il bimbo si può esprimere, si può esprimere disegnando qualsiasi cosa. Per esempio una colomba, per esempio un albero, mettiamoci in ginocchio il bambino che disegna un albero. Questa seconda porta è stata studiata, abbiamo dato il nome di opera perché effettivamente si tratta di un'opera che viene colonnata nella porta, la porta stessa è un'opera con dentro il mosaico, un mosaico fatto di pasta vitrea colorata in tessere di un centimetro per un centimetro e fatto a mano, quindi costruito a mano. Rappresenta un momento di serenità e di tranquillità che significa dare il senso del bello e della tranquillità all'interno di uno spazio architettonico come può essere quello di un alloggio. Dobbiamo anche dire che il pensiero del bello mi ha portato anche a pensare che cosa? A pensare che forse rompere la monotonia di un rapporto all'interno di un corridoio, di un collegamento di un corridoio con una sala può essere elemento di gratificazione per chi abita in quell'alloggio. Quindi abbiamo pensato di costruire questo mosaico in questa porta che però ha una cosa molto interessante, ovvero si presta ad una doppia lettura, già che il mosaico viene posto anche sull'altra parte della porta. Quindi è un passaggio da uno stato all'altro mantenendo la stessa condizione estetica di bellezza. E per noi questo è molto importante perché diamo il senso della bellezza, diamo il senso dell'abitare bene, dello stare bene dentro a una casa. Grazie a tutti. Grazie per la visione!